Ma che bello! Ma che bello! Avete visto quant'era dolce quell'alieno? Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua insieme a Lisa per commemorare, celebrare, festeggiare, prepararci al 21 settembre, il giorno in cui, come ben sapete, l'Area 51 verrà presa d'assalto da un milione di persone e quindi noi ci vogliamo preparare psicologicamente al grande evento Da casa! Con prodotti appositi. Allora, questo è Area 51 e... facciamo prima da partire senza grandi spiegoni preventivi. Giochiamo! Ah beh! Vedi? È un allenamento! Nessuno parla! Ma... Ma questi sarebbero quelli che... Ah! Ci stiamo preparando al 21 settembre! Perché nessuno parla? È l'intro, è l'intro! È la suspense! È la suspense! Vedi? Forza, forza! Ah, meno male! Ma questo accade in un supermercato di notte! Più che nell'Area 51! Le porte sono chiuse! Non sono vere! Ma l'ingresso dell'Area dov'è? Ma noi siamo reali! Penso di sì! Cosa gli ha lanciato? Un secchio della monnessa? Vai, vai! Aspettacchiappa, non lo tocca a me, eh! Ma no, me l'ha tirata troppo! No, non lo tocca a me! No, è inaccettabile! Ma cos'è un alieno? Lo salvo, eh! Aspetta, aspetta! Ma che bello! Ma che bello! Avete visto quant'era dolce quell'alieno? Ma perché gioca una palla tra le macerie? Ah, no! Aiuto! Vabbè, io fugo! Sali su, i! Aspetta, aspetta! Prendi la palla fluo! La palla fluo! Perché le braccia non si... Perché è la corsa alla... Alla Naruto, questa qui, eh! Vero! Stiamo morendo! No, no, ci stiamo curando! È l'ealing boost! Il nostro obiettivo... Far fuori tutti quelli che non vogliono che stiamo qua! Io vorrei capire che opzioni ho! Quanto sono bello! Prendi le rocce e lanciale su qualcuno! Ciao, mi chiamo Armando! Cosa sta accadendo? Guarda su! Ci danno aiuto! No, non penso! Vabbè, ma quindi? Finito! Ce ne possiamo andare a casa! Finito il gioco? Ma io non... Non mi sento preparato psicologicamente per i giorni in cui dovremo... Signora Lieno? La salvo io, venga! Oh, vedi che... È rosso! Damage boost! Signora Lieno, venga che la salvo! Ma quanti sono? Comunque è veramente... Io non so se quest'anno... Mi stai caricando! Ci sarà... Grande speranza per altre case di sviluppo, eh! Non penso! Perché io vedo un probabilissimo gothi qui, eh! Vabbè, vai! Vado? Allora, con... Con quello corri! E con il mouse... Con questo fai lo scatala Naruto! E con questo picchi! Partendo molto da dietro! Dovresti usare anche il mouse! Dovresti usare anche il mouse! E continui... Come raccolgo? Non raccogli! Che io sappia! No, non vale! Lo devo riprovare! Vada, vada! Play again! Ok, diciamo che... Forse si poteva fare un po' di più! Allora, con E lo salvi! Non mi spinge! Con E lo salvi! Tenendo premuto E lo salvi! Oh, vai! Io sarei potuto sapere... Il livellare che cosa implica! No, le scale sono messe lì tanto per dare un po' di scena! Perché picchi le scale? Salva l'alieno! Salva l'alieno! Bene! Abbiamo livellato! Io faccio andare avanti gli altri e... Fai Masaniello! E salvo gli alieni! Armiamoci e partite! Vai! Salva l'alieno! Fai la palla blu! 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 Passaci su! Ma non posso! Mi sparano! Ma hanno i tappi di bottiglia! Enisa è estremamente tattica! Con questi giochi! Lo sta vivendo un po' la Metal Gear! C'è una palla! Ecco! No! Ecco! Corri, corri! Scatta! Comunque, l'ambientazione è piuttosto... Guarda un po' cos'è sta cosa rossa che ti insegue! Guarda il cielo! Sto morendo! Sto morendo! Vabbè! Che bella inquadratura! No! Diciamo che si potrebbe fare un... Ah! Che... Ah che? Mi inseguono! Ma chi? Puoi guardare in su? Sì! Con un po' più di... di... di dolcezza magari! C'hai... Ci sono solo nemici! Siamo in linea 51! Non è che ti aspettano a coltare i pasticcini! Non voglio morire! Io me ne sarei già andata! Non c'è via d'uscita! Mena uno di questi! Ma cosa faccio a lanciargli roba? Mena uno di questi! Ma non muoiono tanto! Provaci! Faccio arrivare da me! La palla! Prendi la palla! Prendi la palla! Prendi la palla! Morto! Sì ne hai preso uno! Prendi la palla! Prendi la palla! La palla non riesce neanche andare incontro! Vedete diciamo che non ha un grande futuro! Come... 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 Devo farci la mano! Salvala dietro! Salvala dietro! Salvala dietro! Oh... Vedi che... Sto andando fortissima! Comunque... Il gioco molto bello! Devo dire eh! Devi picchiare qualcuno però! Se hai il damage boost e non lo usi è un po' fine a se stessi! Picchiato! L'ho picchiato! Non è morto! Gli mancava tanto così! Eh ho capito! Devo ricaricare! Che cosa? Il gomito! Ricarico! Vai vai! Forza! Li prendo dalle spalle! Salva l'alieno! Ah! La palla! La palla! E un attimo mi passo da dietro! La palla blu! La palla blu! Posso seguire la massa? Segui la massa! Segui la massa! Andiamo tutti contro quello! Sono accaniti con una cattiveria! Io sei con loro eh! Quello fa il coltello! Perché ha il coltello? Cosa che si sblocca andando avanti sta roba! Richiamo! L'alieno! L'alieno! Salva l'alieno! Salva l'alieno! 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 Ti aiuto! Ecco! Ma se non picchi! Sembri me con gli FPS! Bene! Io direi che il gioco si è rivelato oltremodo appassionante! E dopo essere stati risucchiati dal terreno potremmo anche fermarci qua! Ma sappiate che non finisce qui! Perché nella settimana dell'area 51 noi non ci faremo trovare per malari! Non staremo mica a casa! Non staremo a casa! Ve ne proporremo altri! Non è finita! Eh? La state a sentire che arriva la paura! La state a sentire!